Ciao a tutti, mi chiamo Martina Lombarda e ho 17 anni. Vengo da Chioggia, in provincia di Venezia. Frequento il quarto anno del liceo scientifico ed estate ho lavorato come barista, insomma mi do da fare. Ho la passione per le moto da cross, infatti ne ho una tutta rosa con i brillantini. È sempre stato il mio sogno fin quando ero bimba. Mi piacciono tantissimo gli animali, soprattutto i cani. E un altro mio sogno sarebbe avere un aschi siberiano. Sto aspettando di andare via di casa per prendermene uno, perché i miei genitori non ne vogliono. Però intanto ho tele tartaruga, cui voglio tanto bene. Il mio sogno è quello di viaggiare per il mondo e conoscere altre culture, città, visitarle. La mia città del cuore sarebbe proprio New York, perché è bellissima, solo a vederla dalle foto così mi ispira un sacco. In bocca al lupo a tutte le ragazze e ci vediamo alla finale.